Il direttore generale dell'Asli, Teramo Maurizio Di Giosia, dati alla mano, ha voluto replicare le polemiche alle accuse mossegli direttamente e indirettamente negli ultimi giorni a livello regionale, spiegando la reale condizione economica dell'azienda sanitaria. Sui bilanci pesa come un macigno la gestione dell'emergenza Covid, ma anche le assegnazioni in calo delle somme ripartite a livello regionale del Fondo Sanitario, fatte fino al 2019. Le cause erano da imputare sia il fatto che questa azienda riceveva minor somme da parte dell'Assognazione regionale, del Fondo Sanitario regionale, nel momento in cui veniva ripartito a livello regionale vi era qualcosa che non quadrava perché questa azienda veniva attribuita 30 milioni di soldi in meno. E dopo è ovvio che nel momento in cui si pensava a un risanamento contabile di questa AS, di dare un fondamento al bilancio aziendale, è arrivato il Covid. E il Covid è stato, come possiamo dire, penso che abbia coinvolto tutta l'Italia, tutto il mondo. Noi particolarmente ne siamo stati colpiti perché è ovvio che non eravamo strutture obsolete, non adeguate e ci siamo dovuti preparare a tutto. Questo ha comportato che avessimo delle spese di 42 milioni nel 2020 e 45 nel 2021. Ma tutte spese attribuibili al fatto che noi abbiamo dato assistenza, tamponi, tracciamento, tutta una serie di servizi in più, di vigilanza, nella prima fase soprattutto, di assistenza, di personale. Dopo sono arrivati i vaccini. E' ovvio che noi non possiamo, in questo ci siamo contraddistinti, non abbiamo badato a spese, sembri in un'ottica di diligenza nello spendere i soldi. Adesso è venuto il momento in cui vi sono delle situazioni contabili particolari a livello regionale, dobbiamo essere attendi nel saper gestire queste somme che ci vengono assegnate e essere oculati nella spesa. Il piano oriente è stato chiesto col secondo trimestre, col secondo CE, quindi a giugno. In quell'ottica lì emergevano delle perdite importanti, sia da parte nostra che di altre asle. E' ovvio che questo ha preoccupato sia la regione, ma soprattutto ha preoccupato noi. Abbiamo messo in atto alcune manovre contabili in maniera tale che riuscissimo a ottenere una spesa coerente.